Grazie Presidente, ne userò molti meno. Noi a quest'ordine del giorno ci asserremo, non perché non riteniamo che questa attività sia importante, anzi per noi è molto importante, talmente importante che abbiamo deciso di metterla a bando, ci siamo riusciti. Poi che il bando lo abbia vinto proprio Filippide, allora va bene, ma non è che noi dobbiamo assicurare che continui Filippide, noi dobbiamo assicurare che continui l'attività sportiva di inclusione per questa tipologia di soggetti e non la dobbiamo vincolare a chi la fa, quindi noi ci asserremo. Grazie.